Allora, sarebbe bello che tutti... Ladies and gentlemen... Vanessa Gray! Che bravo, come sono? Wow! Ma come sono bellissime? Cioè, gli facciamo un grande applauso? Ragazzi, che si è inteso che il figo della Beppe sono io, eh? Sì, sì, ballo! E come sentire le mani, non venite qui? Oh! 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 E' sempre la beeeeh O' vera, vera, o' vera Vorrei chiederti se per caso il passato del tempo l'avvicino dove fanno la focaccia Per essere così gnocca Oh, grazie. Perchè non hai fatto il pezzo quello così? E infatti ho detto che volevo vedere quello lì Facciamo la sua C'è un po' di fumo è perchè ha preso fuoco la chitarra Allora io voglio sapere secondo voi la prima lettera dell'alfabeto è la lettera e invece la prima vocale è la lettera Allora li prendiamo insieme quattro volte A voi Di nuovo Lamentatevi Come? Quindi commentate Come? 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 Grazie a tutti.